Come quella di una volta. Come tradizione comanda. Come quella che nacque a Napoli, la puoi ordinare solo da tutta pizza da Marcello. In via Trenzo numero 98 a Mondragone Caserta. Una serata con amici veri. Una semplice telefonata al numero 347 560 46 70. E subito la felicità di aprire quel cartolcino per gustare la cosa più buona del mondo. Chiama a tutta pizza da Marcello. Dove la qualità, il buon cibo e la soddisfazione del cliente vengono sempre messi al primo posto. A tutta pizza da Marcello. Pizzeria, Figgitoria, Piccaccechia e Tuccicheria. Siamo in via Trenzo numero 98 a Mondragone Caserta. Questo spot è una produzione Pisano Music Event. Contatta la nostra pagina per la tua pubblicità.